Benvenuti nella guida su Springer E-Book Collection della Biblioteca di Ateneo dell'Università di Milano Bicocca. Come prima cosa vedremo come si presenta la piattaforma Springer. Quindi vedremo le modalità di ricerca e i filtri che possiamo applicare per fare ricerche più specifiche. Infine analizzeremo come vengono presentati i risultati e come poter accedere al full text. Iniziamo vedendo la piattaforma Springer. Entriamo nel sito della biblioteca www.biblio.onimib.it e selezioniamo Metabip, Biblioteca Digitale. Il modo più rapido per accedere al singolo e-book è selezionare Trova banche dati e spostarsi su Trova. Scegliamo la categoria di cui abbiamo bisogno. Ad esempio, Matematica e come tipo risorsa selezioniamo e-book. Vai! Ecco l'elenco degli e-book disponibili per quest'area. Attualmente abbiamo 13 risorse. Tra le varie risorse troviamo ad esempio Springer e-book collection in Mathematics and Statistics. La clicchiamo. Adesso analizzeremo questa risorsa. Gli altri e-book della Springer e-book collection hanno diversi contenuti, ma la medesima grafica e le stesse funzionalità di ricerca e consultazione. Abbiamo i-book Springer in diverse aree, quali Medicina, Chimica, Fisica, Matematica, ecc. Vediamo ora le modalità di ricerca e i filtri che possiamo applicare. In alto c'è il campo Search, dove possiamo cercare per parola chiave. Cerchiamo ad esempio il metodo Monte Carlo. Basta scrivere Monte Carlo. Invio. Troviamo 34 risultati. Nella colonna di sinistra possiamo aggiungere dei filtri. Ad esempio possiamo limitare la ricerca alla statistica. Basta selezionare Statistics. I risultati, così, sono diventati 20. Analizziamo come vengono presentati i risultati e come accedere al full text. Clicco sul primo risultato. Posso scaricare integralmente gli e-book cliccando semplicemente su Download Book. Si è aperto il PDF integrale 382 pagine. Torno indietro. In alternativa posso scaricare il singolo capitolo. Cliccando su Download PDF. Come vedete non ci sono DRM con gli e-book Springer, quindi potete scaricare tutto quello che volete, senza limitazioni, naturalmente nei limiti delle leggi del diritto d'autore. Per qualsiasi altra necessità e informazione puoi scrivere all'indirizzo usbd-unimip.it